Via Se come negadora c'è da non star male perchè io non trovo la cazzola Si è bello si No vuoi dimmi che ti piace il tipo dai No no Ah ok No era per dire C'è sempre il tipo figo Non è questo il caso Magari se non mi ballerò Vuoi dire ma dov'è lei Ecco già che abbiamo outfit dopo 2 secondi Esatto Ma è buona Cioè qua è castana nell'altro cosa sembra un po' Però hai visto quanto gli hanno messo di Di extension Di cipria No ma di cipria cacchio Si beh Sì ma non ha neanche un senso bella così Non so Beh è meglio così cacchio Decisamente Che figo Molto anni 90 Però sempre i ballerini maschi in mezzo Vabbè mi pare giusto Approvo Si infatti c'è Vabbè a parte che lei ha una vita di carriera dietro E però Sono sicuri ballerini però Vabbè Tanto per fare un po' di scema Esatto Quello blu mi piace un sacco No le hanno truccato troppo Mi piace mica Non sono così ciovani questi ballerini Cos'è una battuta No è vero Ah Almeno a vederli sembrano abbastanza ciocchi A vederli Poi dopo vedi che hanno 90 anni Un momento thirsty di Temin Ma giusto Comunque l'outfit più figo è quello degli anni 90 C'è tutto quello arcobaleno Si da quando l'hanno fatto con le red velvet Si esatto E' diventato un po' una moto Comunque anche io questa volta che La prossima volta Quando andrò a Seoul Voglio trovarmi in bua che balla Sì Esatto Mi fa il giusto dai Magari accompagnata anche da qualcun altro Se volete tipo ki-boom Eh esatto Se volete tipo ki-boom Esatto Nooo Not today Sì Sì vabbè Cioè Diventato un flip fantasy tipo E' ovvio E' ovvio E' ovvio niente No veramente è iniziato un film E' attenzione E' verica gialla E' mind the cup Esatto Non ancora troppo vedi tempo in questa cosa C'è quel pezzo Ah ma adesso balla con lei Cioè lui ovviamente ha attraversato i binari volando Per ballare con questo Eeeh E fa tanto tipo di dancing Ah no Ma non è un po' un po' che sui Sì Eh va bene Lei è un po' meglio però della tina Si Ha finito No Aspetta Non c'è Ma dai per te che il penetra uno è un po' più bello Ma l'ha ucciso Oddio L'ha ucciso Io pensavo essere un'aggiore dell'occupato Che giusto Che triste Va bene No aspetta Ah no l'avrà spinto No, ma gli aveva sparato, avevo visto il tumo, one shot, two shot, quindi deve esserci un altro, altri due, arrivo al treno, no, ok, no, è sul coso, scusami, sulla pedana, la, one shot, two shot, hot shot, sì, basta, finito, bene, lei sempre bellissima, a parte nella scena quella, quel vestito rosso che le hanno truccata troppo, cioè stava meglio veramente molto netero sulla metropolitana, molto sciollo, sì, ma sì, infatti, e adoro l'outfit arcobanino, approvo anche il capo di Ricci, in ogni caso direi che la reaction è finita, sono un po' in ritardo, ma dettagli, ho mai avuto il tempo di registrare i video, ma non importa, comunque fatemi sapere nei commenti, fateci sapere nei commenti, se seguite anche voi, boh, da quanti anni, se avete scritto l'album o se mai uscirà, non l'hanno ancora visto niente da uscire, appunto, perché non era ancora uscito, però nel caso l'avate svolgato a qualche parte, e noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo reaction, al prossimo vlog, ciao!